Così Eugénie restò sola in quella casa con Nanot, l'unica persona che potesse comprenderla, che le volesse bene, senza secondi fini e con la quale le fosse dato di parlare dei suoi dispiaceri. E quell'ottima domestica fu una fortuna per lei, poiché le divenne umile e sincera amica. Dal notaio Eugénie seppe di possedere 300.000 lire di rendita in beni stabili nel circondario di Somur, 6 milioni in cartelle del debito pubblico al 3%, comprate già a 60 lire e quotate allora a 77, più di 2 milioni in oro e 100.000 franchi in scudi senza contare le corrisposte arretrate da esigere. In complesso quasi 17 milioni. E dove sarà mai mio cugino? E la pensò. Il giorno in cui Mastro Crusciò le rimise lo stato definitivo della successione, la giovane sedeva con la domestica vicino al caminetto di quella sala così vuota, ovvero tutto per lei era ricordo dall'alta sedia della madre al bicchiere in cui Charles aveva bevuto. Nanot, siamo sole. Purtroppo, signorina, e se potessi sapere dove sei mai cacciato a quel ragazzo, andrei a piedi a cercarlo. C'è il mare fra noi, sospirò Eugénie. Mentre la piangeva così con la vecchia serva nella fredda e tetra casa che poteva dirsi il loro universo, da Nanot a Orléans era un continuo a parlare dei 17 milioni della signorina Grandet. La prima cosa che la fece fu di costruire una rendita vitalizia di 1200 franchi a Nanot, la quale, essendo già in possesso di altre 600 lire, divenne un bel partito ed in meno di un mese cambiò lo stato di zitella con quella di moglie sotto la protezione di Antoine Cornoyer, che ebbe la nomina di guardiano generale della proprietà di casa. Sebbene sui 59 anni, Madame Cornoyer non ne dimostrava più di 40, e grazie al monastico regime seguito fino allora, era in grado di sfidare la vecchiaia con un bel colorito ed una salute di ferro. Forse non aveva mai fatto così bella figura come il giorno del matrimonio, poiché godette, per dir così, i benefici della bruttezza, ed apparve grossa, grassa, robusta, e con un'aria di sincera letizia in viso, che fece invidiare da taluni la sorte del fortunato sposo. Ha una bella carnagione, osservava il mercante di pannine. Sembra conservata in salamoia, con rispetto parlando, aggiunse il venditore di sale. È ricca, e quel furbo di Cornoyer fa un buon affare, diceva un altro. Nello scendere l'antica via tortuosa per recarsi alla chiesa parocchiale, Nanon, che era assai ben voluta da tutto il vicinato, ricevette auguri in quantità, e per un dono di nozze, ebbe da Eugénie tre dozzine di posate, la cui magnificenza commosse il guardiano fino alle lacrime, e lo spinse a giurar forte che avrebbe dato la vita per la padrona. Oltre alla gioia di essere maritata, Madame Cornoyer godette la soddisfazione di dirigere la casa, di avere finalmente una dispensa da aprire e chiudere, di consegnare le provviste la mattina, come faceva il suo defunto padrone, e di tenere ai suoi ordini una cuoca e una cameriera che rammendava la biancheria e cuciva i vestiti della signorina. Cornoyer poi era guardiano ed amministratore allo stesso tempo, inutile aggiungere come cuoca e cameriera, scelte proprio dalla Nanon, fossero perle di domestiche. Eugénie ebbe seco quattro persone sul cui affetto poteva contare illimitatamente, in quanto ai fittavoli non si accorsero nemmeno della morta del vecchio, poiché le rigide regole d'amministrazione che questi avevano stabilite si praticarono immutate dai coniugi Cornoyer.